In questa edizione del DNews, 4.000 soccorsi in 48 ore, si fa sempre più grave l'emergenza sbarchi nelle nostre coste. Intanto la città di Catania ha affrontato la prima emergenza classificata di secondo livello e si prepara ad un'altra emergenza di primo livello prevista per questa notte al porto di Catania. Presentato stamani il ventitresimo rapporto sull'immigrazione 2013 della Caritas Diocesana. E scontro nel PD siciliano, alle europee, fuori Antonello Cracolici che aveva già avviato la campagna elettorale e Beppe Lumia, nome intorno al quale nei giorni scorsi si era scontrata la direzione regionale. Entrano in lista Fausto Raciti e Nelli Scilabra. Si è detto preoccupato il sindaco Bianco riguardo una spaccatura all'interno della Camera di Commercio di Catania sull'elezione del presidente. La città non può permettersi questa situazione di scontro, ha detto. Qual è la potenzialità del distretto sud-est Sicilia, il cui protocollo costitutivo si è firmato alla presenza del presidente napolitano? Se ne è discusso oggi alla presenza del segretario della CGL Giacomo Rota, del responsabile dell'IRES CGL Tuccio Cutugno e del segretario della CNA Bonura. Non si fermano gli sbarchi di immigrati in Sicilia. Ieri sera nei porti di Pozzallo e Augusta sono giunti 1049 migranti, mentre le capitanerie di Porto sono impegnate nel soccorso di altre centinaia di persone. Per questo sono stati allertati gli uomini nelle Forze dell'Ordine della Protezione Civile per accogliere gli immigrati. Catania ieri sera ha accolto 75 uomini, fra cui anche dei minori provenienti al Nord Africa, immigrati che sono stati portati al Palas Pedini. Si è trattato di un'emergenza di secondo livello, poiché l'identificazione degli immigrati è avvenuta in un altro porto rispetto a quello etneo. Ma Catania è pronta ad affrontare un'emergenza di primo livello, perché stanotte dovrebbe arrivare un gruppo di circa 117 uomini già soccorsi nel canale di Sicilia e si apprende che forse ci sarebbe un morto tra i migranti che arriveranno stasera. L'emergenza, come ha detto il ministro dell'interno Alfono, si fa sempre più grave, non c'è uno stop agli sbarchi. La situazione è molto grave, rimarca il ministro, con un bilancio di circa 4.000 soccorsi in mare nelle ultime 48 ore. Nell'inizio dell'anno sono oltre 15.000 le persone arrivate per mare, 10.000 con l'operazione Mare Nostrum. L'Italia è sotto una pressione migratoria fortissima. Il tema è grave e deve essere preso in mano subito dall'Europa, perché questa frontiera del Mediterraneo è una frontiera europea. L'Europa non può ritenere che dando 80 milioni di euro l'anno a Frontex, che è l'agenzia che dovrebbe tutelare la frontiera, si risolve e il problema ammonisce Alfano. Ieri sera e per tutta la notte le navi e la Marina Militare San Giorgio, Espero e Sirio, con le motovedette e la Capitineria di Porto, una motovedetta e la Guardia di Finanza e il supporto di una nave mercantile, hanno prestato soccorso ai migranti in arrivo dalle coste africane. La nave anfibbia San Giorgio è intervenuta in assistenza a quattro natanti sovraffollati, con il supporto di due motovedette, imbarcando oltre 1.000 persone, tra cui donne e bambini, senza salvagenti personali. Il pattugliatore Sirio, nella notte, ha portato a termine il salvataggio di 113 migranti, tutti uomini, con l'assistenza e la nave mercantile City of Cylon. La fregata Espero, invece, ieri sera ha dichiarato la situazione di emergenza in base alle condizioni di galleggiabilità di un natante con a bordo 261 persone, concludendo le operazioni di salvataggio nelle prime ore di questa mattina. Sono 139.410 gli stranieri residenti in Sicilia. Palermo, Messina e Catania attraggono oltre la metà di tutti i cittadini residenti. Aumentano le donne, si diversificano le nazionalità, visto che oltre alla storica presenza dei tunisini, sono sempre più numerosi i romeni, i marocchini, gli istri, lanchesi e i cinesi. Sono questi alcuni dati emersi stamattina durante la presentazione del ventitresimo rapporto immigrazione, curato dalla Caritas Odiocesana e dalla Fondazione Migrantes. Il tema del rapporto di quest'anno è tra crisi e diritti umani. Dalle rapporto emergono tre dati principali. Sono sempre di più gli stranieri che vanno via dalla Sicilia perché qui non hanno opportunità. Cresce il numero delle donne e anche quello dei bambini. Palermo, Catania e Messina raccolgono la metà di tutti i migranti presenti nella nostra regione, regione comunque della quale questi migranti scappano perché la crisi investe anche loro e cercano fortuna altrove. Sì, questa è la notizia un po' di quest'anno. Il fatto che in Sicilia ma anche un po' in tutta Italia diminuiscono le presenze degli immigrati. Dall'altro diminuiscono le presenze storiche degli immigrati. Dall'altro lato aumentano invece gli sbarchi, quindi delle persone che arrivano dal mare perché scappano da situazioni di guerra, di conflitti. Quindi viviamo un po' questa scissione tra un territorio che viene abbandonato dagli immigrati storici, i tunisini, i cingalesi, i marocchini, anche in qualche parte dei rumeni perché vanno a cercare fortuna altrove, al nord Italia o ancora di più al nord Europa. Dall'altro invece persone che dal centro Africa, dal corno d'Africa, arrivano in Sicilia come prima meta, anche se poi non è la loro meta definitiva. Aumentano le donne e aumentano anche le nascite in Sicilia? Sì, questo è un altro dato molto importante perché a fronte di una diminuzione di presenze comunque aumentano le nascite. In alcuni contesti storici di presenza immigrata come in Ragusano addirittura siamo all'8% di tutte le nascite. Anche a Catania siamo su una percentuale intorno al 5% delle nuove nascite da genitori stranieri. Se a questo aggiungiamo anche le famiglie con cui almeno uno dei due componenti dei genitori è straniero, arriviamo anche al 7-8%. Quindi sicuramente la multiculturalità è una realtà in atto in Sicilia. Nel rapporto emerge anche che se l'Italia è un paese meno vecchio è perché ci sono più nascite da parte dei migranti, perché da parte degli italiani le nascite sono pari a zero. Sì, il nostro saldo senza gli immigrati sarebbe negativo e quindi è solo grazie alle nascite dei migranti che noi abbiamo un saldo positivo tra morti e nascite in Italia. Ma c'è di più, le donne immigrate fanno più figli rispetto alle italiane, li fanno prima, quindi ad un'età più giovane. Anche se la tendenza ultima è quella che vede allinearsi anche le nascite degli immigrati con quelle degli italiani. Quindi questo momento felice delle nascite derivanti dagli immigrati sembra che sia per andarsi ad esaurire, nel senso che si stanno allineando anche nei loro comportamenti relativi alla sessualità, alle nascite, ai comportamenti degli italiani. Le scuole della regione sono frequentate da 23.492 alunni con cittadinanza straniera concentrati soprattutto nelle primarie. Oltre 30.000 sbarchi registrati sulle coste siciliane nel corso del 2013. Spostandoci a Catania i residenti sono 23.361 con un 78,2% dal 2007 ad oggi di incremento. I minori 2.710, le donne il 54,8%. Le nazioni prevalenti sono lo Sri Lanka, la Romania, le Maurizius e la Cina. Questo rapporto serve proprio per avanzare segnatamente quest'anno proposte dalle istituzioni. La prima è quella di avere delle politiche organiche sul diritto d'asilo perché ancora una volta noi in Sicilia ce ne accorgiamo l'emergenza sbarchi sta per essere affrontata delegando ai territori. Questo significa che il ragusano, il sariacusano e il catanese in questo momento in cui Lampedusa è chiusa verranno di fatto investite dal flusso che arriva dall'Africa e verrà tutto gestito dalle prefetture e questo chiaramente in assenza di un programma politico italiano su un programma di accoglienza integrato. Per quanto riguarda invece le persone irregolari è chiaro che vanno favorite le condizioni dell'integrazione prima fra tutte ma lo diciamo ormai da diversi anni e quella della concessione della cittadinanza italiana ai ragazzi che nascono sul nostro territorio in maniera più semplice e più agevole possibile. Il senatore Giuseppe Lumia non è nella lista del Partito Democratico per le europee nella circoscrizione delle isole dove ha lottato fino all'ultimo per entrare spalleggiato dal governatore Rosario Crocetta. Non trovano posto nemmeno Sonia Alfano, ex Italia dei Valori e presidente della Commissione Criminalità Organizzata nel Parlamento Europeo uscente che era andata a proporsi a Nalzareno due giorni fa in nome del suo profilo antimafia e il deputato regionale Antonello Cracolici, veterano dell'Ars che voleva saltare in Europa con l'appoggio dell'ala cuperliana del partito. Per l'area Cuperlo è in lista invece il segretario regionale Fausto Raciti e trova un posto anche l'assessore regionale alla formazione Nelli Scilabra, studentessa universitaria vicinissima a Crocetta. Sono i risultati della direzione nazionale del PD che dà lo scontro sulle liste siciliane è stata in qualche misura monopolizzata e che consegna un risultato diverso da quello che si sarebbe potuti attendere in base alla rosa dei cinque nomi proposti dalla direzione regionale siciliana. Se come capolista c'è Caterina Chinnici che era stata convinta alla candidatura da Raciti sabato scorso, non figurano invece il sindaco di Agrigento Marco Zambuto, ex Udc convertitosi al PD qualche mese fa, l'ex deputato regionale Giovanni Barbagallo, Tiziana Rena e per l'appunto Cracolici. La Chinnici figlia del giudice che ideò il pull antimafia e venne ucciso nel 1983 con un'autobomba che anticipò i metodi della stagione stragista di Cosa Nostra e direttore della giustizia minorile al ministero ed è stata assessore nelle giunte di Raffaele Lombardo, un'esperienza che le valsa oggi in direzione un crudo attacco di crocetta all'insegna del certe scelte si pagano. Da lui però non applicato all'ex ultralombardiano Antonio Fiumefreddo, appena nominato assessore regionale in ossequo al patto con l'ex ministro Margheritino Salvatore Cardinale, che ora è leader di un suo partito personale, i democratici riformisti per la Sicilia. Comunque sia Caterina Chinnici è stata piazzata al numero uno della lista con una scelta che smentisce la maggioranza dei pronostici, secondo cui quel posto sarebbe andato a Giussi Nicolini, sindaco di Lampedusa, che danni è in prima linea nella battaglia per dare all'immigrazione una risposta dal volto umano. La Nicolini è comunque lista e ha già detto che in caso di elezione userà il seggio europeo da sindaco di Lampedusa. Sbloccati gli appalti e i pagamenti alle imprese e debitrici nei confronti dell'Inps per il mancato pagamento di Durk e Inail. È l'esito di un incontro tra il presidente della regione siciliana Rosario Crocetta, il segretario generale ragioniere generale, il presidente dell'Inps Franco Gioia e il direttore regionale Petrotta. In pratica fino ad oggi in caso di contributi Inail e Inps non pagati alle imprese non potevano essere assegnati appalti né era possibile provvedere da parte dell'amministrazione alla liquidazione dello stato di avanzamento lavori. Durante il vertice di ieri è stato chiarito che tali situazioni possono essere facilmente sbloccate sulla base delle leggi e delle circolari recenti. Nel concreto le imprese che si trovano debitrici verso l'Inps ma che vantano crediti nei confronti dell'amministrazione possono essere su richiesta e dietro cessione di credito autorizzate immediatamente a pagare direttamente all'Inps quanto è dovuto. Soddisfatto il governatore secondo il quale con questo accordo si sbloccano le attività di tante imprese che rischiano di fallire. Il provvedimento avrà effetti sull'economia estremamente positivi. Credo che sia una delle migliori notizie che abbiano ricevuto le imprese in questi anni. Nei prossimi giorni Crocetta incontrerà i sindacati dei lavoratori e degli imprenditori per illustrare e discutere non solo il programma aggiornato del nuovo governo ma anche i provvedimenti in itinere relativi allo sviluppo, alla semplificazione amministrativa e al testo unico delle attività produttive. Il governo infatti, conclude il presidente, intende fortemente accelerare le misure a favore dell'economia per lo sviluppo e l'occupazione. Sindaco, altra fumata nera lunedì per quanto riguarda l'elezione del presidente alla Camera di Commercio. È tutta una partita fra Confcommercio e Confindustria. Tra l'altro non è stato neanche gentile il post pubblicato su Facebook da parte di Confcommercio perché si parla addirittura di voti di scambio, viste le dimissioni annunciate da 12 consiglieri. Il suo invito è che si trovi comunque una soluzione perché la Camera di Commercio è un ente troppo importante per stare dietro a queste beghe. Guardi, Catania ha pagato negli anni passati un prezzo salatissimo per gli scontri e le divisioni che hanno caratterizzato la vita di questa città in ogni campo, dentro la politica, all'interno dei singoli partiti, nel mondo produttivo, tra una categoria e un'altra. E in questi scontri sapete chi ci ha perduto? La città. La città è finita non solo calcisticamente, indietro, in una condizione drammatica per questa situazione di scontri. Ora io rispetto l'autonomia piena e non voglio naturalmente interferire con questioni che non mi riguardano, non mi schiero né per l'uno né per l'altro. Ho il dovere come sindaco della città, che è a cuore di interesse della città, di rivolgere un appello per vedere se si riesce a trovare una soluzione unitaria, largamente condivisa. Questo dà più forza alla Camera di Commercio. Vedere insieme gli industriali e i commercianti, gli artigiani e i cooperatori, gli agricoltori e la pesca, per me ha un valore straordinario. Allora, se ciascuno fa un piccolo passo indietro, e secondo me si può fare. E si vede di trovare una soluzione condivisa, questo darà molta forza alla città di Catania. Ecco l'appello che io dal profondo del mio cuore rivolgo a tutti. Non è il tempo degli scontri, degli insulti, dei sospetti di usare parolone grosse, cerchiamo però un'intesa per lavorare al meglio. Lei da quando si è insedato ha dato vita a una serie di incontri nazionali e internazionali per pubblicizzare ovviamente la nostra città. L'ultimo con l'ambasciatore americano, il console russo e tanti altri ne potremmo citare, queste beghe, queste diatribe, che immagine danno all'estero considerando che la Sicilia potrebbe essere una terra importante per gli investimenti, soprattutto a Catania? Per fortuna, come dire, queste beghe, questi contrasti fanno rumore soprattutto da noi e non si sentono rumori di piatti rotti o di bicchieri buttati a terra fuori dal confine cittadino. Certo però, in un momento in cui sono impegnato dalla mattina alla sera a portare a Catania il Presidente della Repubblica, a far nascere il distretto del sud-est, ieri c'era l'ambasciatore americano e oggi c'era il console russo. La città sta tornando ad essere una città di cui non solo si parla ma si agisce a livello internazionale. Io ho bisogno di unità e di serenità, di rapporto tra mondo sindacale e mondo della produzione. Quando vengono questi personaggi? E io sono in grado di dire ma a Catania c'è un clima sereno. Questo mi aiuta molto. Se, ripeto, si sentono i rumori e le urla di chi litiga, questo non mi aiuta. Influiscono i malumori alla Regione, secondo lei, in questa situazione della Camera di Commercio? No, influiscono purtroppo errori compiuti nel passato, chi oggi reclama un atteggiamento unitario ieri magari non l'ho avuto, l'altro dice che la colpa è... sapete, quando si litiga naturalmente è sempre colpa dell'altro. Allora a me non interessa di chi è stata la colpa del passato. Io chiedo al mondo produttivo della città di trovare una soluzione unitaria che darà forza a questa città, anche per quanto riguarda la Camera di Commercio, che è uno strumento importantissimo. Pensate all'aeroporto, pensate a mille altre cose in cui dobbiamo poter reclamare attenzione da parte degli altri. E per farlo dobbiamo essere uniti. Più di un mese fa ha firmato il protocollo per far nascere questo distretto della Sicilia Sud-Est, protocollo firmato alla presenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per rilanciare, soprattutto da un punto di vista economico, questa zona della Sicilia. Che prospettive può dare questa zona? Su cosa bisognerebbe investire? Intanto questa zona, bisogna dire, produce circa l'80% del PIL al netto delle pubbliche amministrazioni. Quindi il privato qui produce l'80% del PIL della Sicilia. Questa zona ha immense potenzialità. Cominciamo dal vulcano Etna, patrimonio dell'UNESCO e con tutte le implicazioni che questo comporta. Continuiamo con i due aeroporti di Commercio e Fontana Rossa. I porti di Catania, Pozzallo e soprattutto Augusta, porto Abbe del Mediterraneo. La flotta peschereccia tra Catania, Scoglitti e Pozzallo. Riteniamo assolutamente importante e sottolineare l'immensità dei giacimenti culturali. Tutte le rovine greche, tutti i ricordi di quella importante civiltà della Magna Grecia che ci sono tra Catania e Siracusa e la stessa Ragusa con la città di Camarina. Come dimenticare l'arancia rossa di Sicilia, le peculiarità dell'agricoltura, la grande capacità di produrre pistacchio e nocciole dell'Etna. Tutto quello che c'è nella fascia dell'agricoltura trasformata del Vittoriese è ancora. Perché non citare la vocazione industriale di Catania, la sua zona industriale, l'Etna Valley, oggi sfregiata dalla crisi della Micron, gestita male dal governo regionale. Noi siamo di fronte a un consorzio che può dare valore aggiunto alla Sicilia se riesce a intercettare direttamente i fondi di Horizon 2020. Tutto questo è certamente una svolta per le nostre economie. L'importante è che il ceto politico voglia correre questo rischio che è poi un rischio minimo e fare questa grande battaglia. Ci sembra che da parte del ceto politico con Bianco sia venuta questa risposta positiva e la firma davanti a Napolitano sia decisiva. Noi siamo convinti che siamo a una possibile svolta che può contribuire a risollevare le economie di queste tre province importanti di Catania, Siracusa e Ragusa. Il sindacato nelle prossime settimane dirà la sua anche su questo. Che ruolo potranno giocare gli artigiani ma anche i trasporti considerando la sua nuova carica Presidente Lasacca in questo distretto? Tutte le organizzazioni imprenditoriali e oltre che alle organizzazioni sindacali e a tutti gli enti che si occupano di infrastrutture possono giocare un grande ruolo nell'elaborazione del piano strategico di aria vasta, le cui linee sono state presentate a Catania con la presenza del Presidente della Repubblica. Repubblica.